KENTIN! KENTIN! Abbiamo camminato chiamandolo per diversi minuti, finché l'abbiamo trovata assieme a Cookie. Voglio solo aiutare la bambina che ha perso il cane. Non vorrei approfittare della tua pazienza, ma mi lasceresti continuare a cercare con Keller, se i suoi genitori sono d'accordo. Keller, vuoi rimanere? Non voglio lasciare Kentin da solo. Per due ore abbiamo setacciato il parco da cima a fondo, ed anche i dintorni. Non abbiamo trovato nulla. Ehi, Cookie, non scappare! Laggiù! Ma cosa? Cookie è qui, ed assieme a lui... Napo? È proprio il cuccio di pomerania che va a descritto la bambina, ma non si muove più. Oddio, è morto pure il cane. Oh, io chiuderei qua, è morto. Oh no, non mi dire che... Kentin ha avvicinato delicatamente la sua mano al cagnolino, toccandogli la testa. Però diciamolo, è impossibile che fosse morto, sarebbe stato di un tragico questo episodio. Oddio, con l'atmosfera che sta portando avanti, effettivamente il cane è morto. Forse non sarebbe poi un cliché tanto strano. Senza dire nulla, ha preso la mia mano nella sua, facendomela appoggiare sulla testa del cane. Oh, però, una frase un po' più contorta non potevate scriverla, eh? Ma è la mente di Keller. È così che funziona. Madonna, mio labirinto. In quel momento ho sentito il suo respiro, regolare. Una cosa che invece vorrei da te, Kelly, è un respiro irregolare, affannoso e prossimo alla fine. Sta dormendo? Sì, anche i cani dormono, Kelly. Piccolino. Ha sicuramente corso tutta la giornata per trovare la sua madrona. È stanco morto. Almeno quanto noi due. Sì, il problema è che il cane preferisco sia solo stanco. Invece voi preferirei che siate anche morti. Con tutta la dolcezza del mondo, Kentin l'ha sollevato e l'ha messo al caldo sotto la sua camicia. Ammettilo, Keller. Vorresti essere il cane. Grazie, Cookie. Senza di te non l'avremmo mai trovato. Uff! E ovviamente grazie a te, Keller. Ma per cosa? Sei solo lamentata questa. Hai meritato una bella colazione. Oh, finalmente, qualcuno che capisce. Cibo! Dateci del cibo! Oh, grazie, ma troveremo qualcosa aperto a quest'ora? Credimi, sono abituata a fare footing all'alba. Sono pochi i posti ad essere aperti a quest'ora, ma sono i migliori. Ti fidi di me? Termina la discussione. Mi piace come Keller non gli risponde. Ti fidi di me? Nyeh. Nyeh. Buona domanda. Non te lo dico. Aspetta il cornetto, poi ti rispondo. Abbiamo attraversato le strade deserte silenziose, mano nella mano. O comunque i negozi late illuminati in quel modo sembra ancora più barbonesco di quello che era già prima. È tutto così vuoto. Si chiama che tutti sono a letto. Come direbbe Armin? C'è un'aria di apocalisse zombie, no? Può sembrare un po' angosciante, ma invece a me rilassa. Sì, nessuno che ti rompe i maroni. Mi sembra finalmente di riuscire a sentire i miei pensieri. Non come quando sto a casa. Ma forse è meglio non sentirli ai tuoi pensieri. Almeno quelli di Keller li sentiamo e sono da suicidio. Quindi ho stretto la sua mano nella mia ed abbiamo continuato il nostro cammino in silenzio, assaporando per ogni istante la sensazione di essere soli al mondo. Anche Cookie camminava accanto a noi senza far rumore. Sotto la camicia di Kentin potevano sentire il respiro regolare di Napo. Siamo entrati da un panificio in una stradina e Kentin ha comprato una delizia per entrambi. Cod'è una delizia? Devi specificare che tipo di pasta, perché a seconda di che pasta mangi io capisco chi sei. Capito? Tipo io ne mangio solo due e quindi sono una rompicazzo. Eir mangia di tutto, quindi è una persona che ha poche valle. No, Eir mangia troppo di velo. Riusciremo a mangiare tutto questo? Ok, Eir. O tu riesci a mangiare tutto questo o io ti diseredo. Non hai una grande eredità da ereditare, ma io ti diseredo. Perché no? Non so tu, ma sto morendo di fame. E di più c'era una promozione sui bomboloni al cioccolato. Oh mio Dio, adesso voglio un bombolone al cioccolato. Non cambierai mai. Ma non deve cambiare. Un uomo che compra un chilo di bomboloni al cioccolato non deve cambiare. Vado a sposare. Dopo i nostri acquisti siamo tornati al parco ed abbiamo fatto colazione sulle panchine. Ah, è perché così posso nutrire anche Castiel. Ah, già. Eh, beh, dopo tutto bisogna aiutare. Sai, la fama. Eh, non aiuta. È passeggera. Eh sì. Candy l'ha tirato fuori i croccantini del negozio di animali e Cookie è stato trattato come un re. Invece Napo ogni tanto apriva gli occhi prima di riaddormentarsi. Per un attimo pensavo che desse i croccantini a noi. Sono sempre più certa che la zona del negozio li avesse dati a noi come gruppo di amici e non al cane. Ma abbiamo delle orecchie in effetti, eh. E delle orecchie pelose. E affermano che il cibo per animali è commestibile se proprio proprio sei nella merda. Quindi. Quindi Kelly cosa usa come i cereali della colazione. I croccantini per canale. Esatto. Credo che la stanchezza abbia avuto la meglio. Quando mi sono svegliata, Candy mi aveva messo addosso il suo cappotto, utilizzandolo come coperta. Mi accarezzava dolcemente i capelli e mi grattava dietro le orecchie. E io muovevo il piedino. Ti sei svegliata? Non ti preoccupare. Ho avvisato la madre di Lola. Stanno venendo a prendere Napo. Ma avvisare anche tipo i tuoi genitori e i genitori Keller? Con che cellulare li hai avvisati? Quello che ha trovato nelle tasche di Keller. Tanto dubito che questa donna abbia una mente così presente a se stessa avere un codice sul telefono. Però. Dopo tutto questo, salterò la corsa. Penso proprio che dormirò tutto il giorno. Idem. Ah sì, salteremo anche noi la corsa. Sì. Ah, che dispiacere. Senza la corsa la mattina, guarda, sto malissimo. Quella corsa di tre metri dal letto alla credenza, proprio nei cereali, è proprio quella che mi dà tutta la forza della giornata. Poi la corsa inversa di nuovo verso il letto, perché di solito dopo che ho fatto colazione ho più sonno di prima. Dopo qualche minuto abbiamo visto Lola correre verso noi, seguita i suoi genitori, i mentecatti. L'avete trovato? Sì, bambina. Ha anche occhi gravi. Perché i bambini hanno tutti gli occhi così grossi? Perché non sono... Anche il figlio di Rosa. Sono sproporzionati. Sono dei mostri. Sì. Cioè, non ti sembra un alieno. Quelli tipo che ti facevano nell'R51 con gli occhi grossi, grossi, grossi. Hai visto il bebè. L'ho messo al caldo qui con me, stai attenta, è molto stanco. Mentre Lola recuperava il suo cane, molto attenta a non fargli del male, questo ha sbadigliato ed ha mosso la coda. Oddio, che pucciolino. Madonna mia, che mostro. È bellissimo. Oh, mi vero, mi vedo... Oddio, che mostro. È il più brutto pomeragno che avevo mai visto. Ne ho visti due nella mia esistenza. Uno bello e sto mostro. Ma sembrano i panda di... Di Kung Fu Panda 3. Oltre al fatto che sembrava fatto quanto la bambina. E il pomeragno è veramente brutto. È un orso, non è un cane quello. Cioè, guardala attentamente. Ti sembra un cane? No. Ecco, vedi, è un orso. Ed è anche brutto come orso. Beh, è stato a dormire dentro la camicia di Kentin. Kentin che è uscito di casa la mattina, ha corso per il parco anche la notte. Quindi potrebbe... Se quel cane aveva il naso vicino alla scella di Kentin, poteva effettivamente essere stordissimo. Napo! Oh, Napo, cucciolo mio! Sei diventato più brutto nelle ultime 48 ore. Puzzi! Credevo di averti perso per sempre. Sei andato con Kentin in Afghanistan. Mi sei mancato così tanto. È impossibile vivere senza di te. Oh, almeno questa bambina ha capito una cosa nella vita. Che non servono gli umani, meglio gli animali. Farà molta strada questa giovane. Ti adoro, cagnolino mio. Ti voglio tanto 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 bene. Allora, sembra sempre più spassi che questa bambina. Lola ha premuto il nasino di Napo contro il suo. Sono così carini. Naso che è stato sotto la scella di Kentin, però va bene. Non sono tu, Keller, ma mi sciolgo solo a guardarli. Vivere questo momento vale più di tutti gli sforzi fatti. Piani, piani, le mie ore di sonno perdute qualcuno me le dovrà ridare. Poi secondo me l'unica cosa che ti sciogli in questo momento è la stanchezza. Vai tranquilla, non è di certo che una bambina è un cane. Soprattutto perché se il cane fosse il cane che intendo io, ok. Ma la bambina è inquietante, il cane è un alieno. No, scusa, la bambina è un alieno e il cane è un orso. È un panda, quindi evitiamo. Sono d'accordo, tutto è bene e quel che finisce bene. Sì, perché è finita con i bomboloni. Ma perché se no, no, eh. Perché quel cane mi ha trova mangiudato veramente. Ho stretto la sua mano nella mia. Grazie, mille grazie, voi siete fortissimi. A loro volta i genitori di Lola hanno tenuto molto a ringraziarci per quello che avevano fatto per la loro figlioletta. Ci siamo riseduti per osservarli mentre si allontanavano. Quando ci siamo ritrotti da soli, la stanchezza si è fatta risentire. E non ho potuto fare a meno di sbadigliare per un lungo minuto. Oddio, cosa sei? Ma se sbadigli per un minuto non ti fai un tipo in palla il cervello? Sì. Quanto a Kenty sembrava sconvolto e mi guardavo con gli occhi lucidi. E cosa si mette a piangere? Adesso cosa gli è successo? Gli è caduto un bombolone. Sì, gli è caduto un bombolone. Questa piccola e il suo cane mi hanno commosso così tanto. Devo dire che tu per me sei come questo cucciolo di povera Anian. È un mostro, quindi? Kenty non è un bel complimento quello che hai appena detto. Però è corretto. Non riesco a seguirti. Anche lei pensa che sia brutto. No, non volevo dire questo. Io, io... Mi piace perderti nei parchi, poi rompere i coglioni alla gente finché non ti ritrova. Non hai nulla a che vedere con questo cane. Anche se sei carina, ma non nello stesso senso. Ah, quindi siamo brutte, sembrano degli orsi, probabilmente abbia le pulci. Lui si è scordato di darci l'antipulci sul collo messo in mente. E poi cos'altro? Effettivamente è l'ora che ce l'abbiamo già, quindi l'antipulci è possibile che i nostri genitori ce lo diano. Dopotutto un cane è un'altra cosa, e meno... Insomma, no, non dico che Cookie non sia importante per me, è il contrario, è come il mio migliore amico. Sì, ti stai perdendo, tesoro. Però devo ammettere che in questo momento lo trovo carino. Sì, è carino. Che lui che si perde stai acquistando punti. Esatto. Insieme ai bomboloni. Accidenti, mi sto di nuovo incartando. Sono così impacciato, non ci riuscirò mai. Scusami, è la stanchezza. Non c'è bisogno di scusarti. Tanto non capirei un cacchio comunque. Poverino, sembra di combattere una guerra interiore con le parole. Ho trattenuto il fiato, lasciandogli il tempo di trovare le parole giuste. Riuscirà di aprirsi a me alla fine? Io credo che ciò che voglio dire è che tu sei bene al di sopra di tutto questo. Tu sei la persona più importante della mia vita. Sei tutto per me, e l'ho scoperto non appena ho posato gli occhi su di te. La prima volta che ci siamo incontrati. Rischiare di perderti mi ha fatto rendere conto di quanto ti amo. È quello che ho cercato di dirti per tutta la settimana. Ti amo. Sono rimasta bocca aperta per qualche secondo. Ho subito pensato a tutti i momenti in cui Kentin si era comportato in modo strano. Davvero? L'idea mi aveva sfiorato la mente, ma non ho osato crederci. Ma quando l'idea ti aveva sfiorato la mente? Ma dove? L'unico pensiero sensato che hai avuto, lei ce l'hai tenuto nascosto? Ci dici tutte le altre boiate? Sì, ma ho scelto i fiori sbagliati. Cucchi ha rovinato l'orso che ti avevo preso. E infine... C'è stata l'ora. Ma quindi se i crisantemi erano per me, vuol dire che tua nonna... Sì, è viva, staporetta. Beh, sta benissimo. Non so cosa mi abbia preso, ma sono andato nel panico. Bene. Devo ammettere che non sono stato molto coraggioso. Ma alla fine, te l'ho detto. Commossa, ho riflettuto sulla risposta. Beh, dovrebbe essere abbastanza chiara la risposta, essendo un otome. Però se tu non rispondi in quel modo, sei un po' stronza. Oh, come faccio a leggere questa frase senza non sembrare un'idiota? Anch'io ti amo. Mio dolce bagaglio. Non so, vai se è romantica, schippa. Ho avuto qualche dubbio. È vero, ma adesso è acqua passata. Non c'è niente che conta di più di te adesso. Tanto che sei stronta proprio dentro. Ma ti sembra una cosa a dire quando dici ti amo una persona? Ho avuto qualche dubbio, eh? Importa poco se a volte sei maldestro. È i miei occhi. Sei perfetto. Ste frasi da bacio perugina mi fanno venire l'acqua alle ginocchia. Hai fatto più sforzi di chiunque per me. È da una vita che ci sei per me. Adesso anch'io lo sarò per te. Per sempre. O almeno fino ai prossimi due mesi quando la mia famiglia si trasferirà da qualche parte. Io sparirò nel vuoto cosmico perché mia sorella prenderà il mio posto. Timidamente si è avvicinata a me e mi ha carezzato le labbra con la punta delle dita. Il mio sguardo si è tuffato nei suoi occhioni verdi. Ed è come se il tempo si fosse fermato. Per darci l'occasione di godere appieno di questo momento. Cosa che in questo momento mi piace di più è il fatto che fai to work all'università. Perché io di leggere scene d'amore faccio cagare. Ma perché io le leggo bene. Ma tu però le letto quelle porno. A posto. Ah già giusto perché nell'università non ci sono le scene d'amore. Ci sono le scene porno. Le mie preferite. Mi saputissimo. Mi sembra di essere in un sogno. Questa è la classica frase che appena la dici sparisci tutto quanto e ti rendi conto che effettivamente eri in un sogno. La vita fa schifo. Cose sinchieri in un sogno. Kentin mi ha preso tra le sue braccia. Mi ha stretta a sé. Mentre Cookie saltellava intorno a noi e faceva le feste. No. No però commentiamola. Bisogna dire una cosa. È stato un parto di episodio ma questa illustrazione è bellissima. È molto molto bella sono d'accordo. È veramente fatta a bana. Lui è bello. E anche lei. Sì esatto. È uno stile un po' diverso forse di colorazione però è veramente figo. Sì sì a me mi piace da matti questa illustrazione. Cookie è adorabile. Sai che sei davvero una ragazza eccezionale. Sì lo sa. Infatti il suo ego alcune volte rimpe fin troppo lo spazio. Nessun altro mi avrebbe seguito in un'avventura così assurda come la ricerca di un cucciolo di poveragno. Psicotico. Fino notte fonda. Ammettino. Sei tu ad essere unico nel tuo genere. Questo è poco ma sicuro. Per fortuna. Lo prendo come un complimento. Perché allora è una volta. Sì. Sei tu che ci hai paragonato a quella sotto specie di cane psicotico che non era proprio un complimento. Ho davvero voglia di dimostrarti che non siamo solo una coppia. Siamo anche un duo. Una squadra eccezionale. I migliori amici al mondo. Ma porca miseria che mi accoltellino mentre leggo sta frase. Cioè l'hanno scritto sta roba quando il liceo era bello che è finito e sepolto. Gli ho dato un lungo bacio prima di appoggiare la testa sul suo petto. Ecco che è riapparsa la pazza. Oh l'incubo. Non so se è finito l'incubo e iniziato la vita reale o se è finito il sogno ed è iniziato l'incubo. Siamo tornati a casa. Ma no. Dopo un meritato riposo ho avvisato tutti i nostri amici che avevamo ritrovato Napo. Ed abbiamo così potuto iniziare le attività estive. Come da tradizione. Ovvero traslocare. Qualche giorno dopo Rosa ha aiutato Kentin a ricucire l'orso che vedi laggiù. Quello rovinato da Cookie. Io l'avrei tenuto senza il braccio. Oh io continuo a sostenere che l'orso voleva mutilato. Ma anche perché ricorda di più l'avventura. Eh quello. Cioè ok lavarlo perché avere l'orso fangoso in camera non è propriamente igienico. Però io anche io avrei abbandonato il braccio. E così che ha trovato il suo posticino in camera mia. Che in realtà vedendo quanto come è messa con la camera il fango non è che ci stava proprio male. Ma ma zia stai piangendo? Sì lacrime di coccodrillo. Ma ti prego. Ma secondo me è più tipo le rane che hanno la pelle umida. Traspira con la pelle che sembra che si è piangendo in realtà sta trasudando. Oh tesoro mio. Che bella storia. Sembra davvero una favola. E detto da una fata non è qualcosa da poco. Quindi questa crede veramente di essere una fata. Evidentemente. Sono così contenta per te. Adesso ti regalo l'ennesima minchiata. Fatti abbracciare. No che rimbalzo via. Ci siamo strette. Ridendo. Angeta ma cosa ci fai qui? Cos'è tutto questo baccano? Ops. Credo che li abbiamo svegliati. Visita a sorpresa. Termina lo spin off. Oh finalmente questo episodio è finito. Pace all'anima sua. Mi piace perché noi ci lamentiamo per tutto l'episodio. Però alla fine in realtà ci è piaciuto comunque. Ma sì perché in effetti l'idea in sé non è male. Allora io sono partita all'inizio con Cassie che riceve una gavettonata in faccia. Per me abbiamo fatto giornata lì. Sì infatti. Quella parte dei gavettoni effettivamente è stata bellissima. E che però quella parte risuove un po' l'episodio. Nel senso che parti veramente belle. Poi a un certo punto iniziano dei discorsi che non stanno in cielo né in terra. Poi ritorno belle. Il problema sono le conversazioni. Oh non avrei mai detto che il problema sono le conversazioni. Intanto gli otto home sono famosi per scene intere in cui tipo spara tutto. In cui non succede niente. Non parla nessuno. No. E' famosissimi per questo. No è che l'hanno tirata un po' per le lunghe. Potevano tagliare di più. Cioè alla fine oggettivamente. Chi è che parla così tanto con i suoi genitori? Nessuno. Voglio sapere. Voi parlate così tanto con i vostri genitori? Scrivetemelo nei commenti e rivedrò la mia posizione. Anzi domanda migliore. Voi quando siete stanchi rimanete di più a parlare no? Perché questa cosa Keller l'ha fatta e io non l'ho ancora capita. Sempre parlando di Keller e dei dialoghi assurdi. Cioè questa donna qui è romantica. Come un sasso contro una finestra. Non è che possiamo, posso dirle tanto. Non è che io e te siamo molto meglio. Sì lo so ma io decido poi di fare spin off in cui il mio ragazzo mi dice ti amo. Vero anche questo. Ecco. Beh comunque è il fatto che c'è anche Kentin. Gli porta un orso gigante. Ok che c'è tutto il problema con il cagnolino. Ma sì. Che lo mangia. Però Keller non ha mai detto grazie mille. Oh è bellissimo, fa lo stesso. No. Anzi l'unico bricio d'affetto che dimostra per quell'orso è il fatto che l'ha lavato, l'ha ricucito e ce l'ha in camera sua. E poi neanche lei l'ha lavato. L'ha fatto cucire a Rosa e l'ha lavato Kentin se non ho capito male. Sì esatto. Quindi cioè lei ha permesso di vivere in quei 30 centimetri quadri di camera sua. È l'unico affetto che ha dimostrato nei confronti di quell'orso. Io ce l'avrei nel letto. No però è vero che Heller in certi momenti proprio, ma non è tanto che non è romantica, però dà delle risposte brutte. Cioè è sempre così empatica verso gli altri, sempre così disponibile. Poi con il suo fidanzato è fredda. Cioè ma perché? È proprio quello. Cioè anche Kentin gli fa questi discorsi bellissimi e lei o non risponde. Emma. Oppure date veramente come hai detto delle risposte horrid. Emma. Lei è un'adulta. È una pirla. In questo caso l'età non conta. È strano ma vero, ma i pirla sono di qualsiasi età. E genere. E parlando di età eccetera eccetera, c'è anche il fatto che in questo episodio a un certo punto, dal nulla, perdiamo una marea di tempo a parlare di noi che vediamo i genitori in modi diversi, solo perché abbiamo fatto un esame. Non ho ben capita questa cosa. Fatti un esame di coscienza che quello forse aiuterebbe. È un continuo che noi diciamo che i nostri genitori li vediamo diversi, noi siamo delle adulte, i nostri genitori dicono che siamo adulte, ma poi ci trattano da bambine, oppure ci trattano da adulte, ma poi ci parlano da bambine. È assurda sta cosa. E tutto questo condito dal fatto che la madre mette anche il dito nella piaga e dice no ma adesso sei adulta te ne andrai dal nido di casa, na na na, quando andremo altri tre anni con loro da qualche parte a distruggere cittadine. Per poi abbandonare di nuovo e tornare indietro. Questa parte è stata veramente frustrante perché proprio vedevi che ti buttavano lì commenti sul futuro quando sappiamo tutti benissimo come è andata a finire, perché quando è uscito lo spin off di Kentin era già finita praticamente. Quindi proprio c'è una presa in giro. A certi punti era proprio una presa in giro. Non so se voleva essere tipo un troll della B-Move, ma la B-Move ci sta trollando un po' troppo ultimamente, quindi potrebbe anche smettere. Ecco esatto. No, quindi sì, è un episodio che va molto potenziale, ma rovinato un po' dai dialoghi, secondo me. Perché le situazioni stesse sono molto belle. C'è tipo la sera fuori a cercare il cane. Poteva avere effettivamente delle cose spettacolari. Secondo me è che hanno il troppo stroppia, nel senso che hanno scelto il tema giusto, perché Key Lair che diventava adulta l'hanno buttata lì, ma in realtà era più un discorso da fare su Kentin, però non sapendo come introdurre, ci hanno messo Key Lair che si faceva questi giri mentali astrosi. Però l'idea di per sé, insomma questo arc diciamo su Kentin, ci stava. Secondo me era azzeccata, più che altro che appunto hanno esagerato con questi dialoghi un po' troppo pesanti, veramente molto pesanti, ripetitivi quasi in certi momenti. Il discorso è che, sto pensando, io in un anime, un percorso di un personaggio fatto come l'hanno fatto qua, ce lo vedo, però più leggero. Sì, che le tematiche c'erano, però sì, sono state affrontate con drammoni, tipo anche per esempio il fatto che quando andiamo alla ricerca di Napoli, la prima volta con gli amici, Kentin e Kelly devono stare separati, perché questa atmosfera da dramma non possa essere stata con Kentin, ci rivedremo dopo questa missione, cioè sono andate i negozi animali, quando in realtà tranquillamente potevano stare insieme per passeggiare con Napo e anzi, se però vogliamo parlare di crescita eccetera, Keller poteva parlare del fatto che vede i suoi genitori in maniera diversa e tutto però confrontandosi con Kentin. Esatto. Non con dei giri mentali a caso mentre parlava con i suoi. Sì, sì, esatto. Se volete farci vedere dei discorsi profondi, però fateci vedere tra i due protagonisti di questo spin-off, non tra la protagonista e uno dei personaggi secondari. Sì, però per chiudere in bellezza l'illustrazione è spettacolare. No, l'illustrazione ha fatto veramente un buon lavoro. Si vede che è cambiato un po' lo stile rispetto alle vecchie illustrazioni del liceo, però è venuta veramente bene, veramente bella. Salva l'episodio quella. Sì. Perché se anche quella fosse stata brutta, sarebbe stato un parto il tuo episodio. Sì, dai, no, però sono abbastanza soddisfatta perché la trama c'era, han solo ovviamente come sempre cagato un po' fuori l'esecuzione, l'outfit mi piace molto, l'illustrazione è molto bella, diciamo che ci sta, secondo me comunque è un episodio molto carino da giocare. B-move, le idee ce le hai, però cazzo le sfrutti sempre male. Mannaggia, siamo dei giudici troppo crudeli, non lo so, evidentemente. Sì, sì, è probabile, che poi al massimo mi chiedono a te, fa creare qualcosa del genere e faccio una porcata peggiore di questa, eh, se mai. Voi allora cosa ne pensate? Vi è piaciuto di più questo, quello di Armin che abbiamo pubblicato qualche tempo fa? Ci manca solo quello di Lisandro ora, che a questo punto ho paura. Però sono curiosa, devo ammettere che sono curiosa, Lisandro mi ha sempre un po' incuriosito, quindi chissà se riusciremo a entrare nella mente del nostro vittoriano. Beh, per questo è tutto, iscrivetevi al canale. Ricordate di attivare la campanella degli stalker. Se volete seguiteci su Instagram, dove ogni tanto postiamo qualcosa di divertente, tipo il ventilatore di Kel che fa suoni da vecchiaia, come le piace definirlo a lei. Buonanotte! Dolcette passanti! Dolcette passanti!